Un ragazzo gubbino che stava rientrando a casa a cavallo della mezzanotte tra l'11 e il 12 novembre sarebbe stato malmenato da due persone incappucciate. Sul fatto stanno indagando in queste ore i carabinieri di Gubbio. Secondo quanto raccontato, il giovane stava camminando da solo lungo via San Lazzaro, traversa di via della Piaggiola che costeggia l'eliporto, zona buia dove sono presenti numerosi alberi. Secondo le dichiarazioni, lì c'era un'autoferma con al volante un uomo. Fuori dall'autovettura invece altre due persone con il volto coperto dal passamontagna che stando a quanto raccontato dal ragazzo avrebbero cercato di buttarlo a terra. Il giovane sarebbe riuscito a difendersi ma è nata comunque una colluttazione. Il fatto, confermato successivamente dai carabinieri di Gubbio che stanno appunto indagando per ricostruire nel dettaglio l'accaduto, è stato raccontato sui social dal padre della vittima. Non si sarebbe trattato di una rapina in quanto al giovane non sarebbe stato rubato nulla. Leo Gubbino sarebbe comunque riuscito da solo a chiamare il 112 per poi essere soccorso e trasportato all'ospedale di Branca con contusioni riconducibili alle percosse. Come detto, le indagini sono in corso, coperte da massimo riservo, per una vicenda che ha creato molto clamore e qualche preoccupazione tra i cittadini.